Mister, una prestazione sontuosa, sette reti, oggi c'è niente da dire? No, non ho fatto un'ottima prestazione, sono contento che i ragazzi ci tenevano comunque a fare una buona partita è vero che controvamo un po' la musica, ma ci siamo detti che il campionato si andrà con poca testa, invece poi dopo due minuti eravamo già in vantaggio penso che c'è stata una partita dove c'è poco da dettagliere Chiedete che questo giro è andato a 31 punti, un voto a questa Voltrese, se ti aspettavi forse qualche punto in più se sei soddisfatto? Ma no, soddisfatto sono soddisfatto, non è facile comunque, l'ho detto anche due mesi fa avere un gruppo di piedi nuovo, nel scorso un verticale, adesso non si è fermato perché è un grosso bollino al ginocchio, quindi mi darà una mano a me, non ce l'ho più Cardino comunque non c'era e tutto ciò che non c'era, abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio ma sicuramente neanche tanto come prestazione, ma abbiamo avuto un po' di infortuni, di squadrifico adesso sono a disposizione di tutti i giocatori, anzi devo tenerne qualcuno addirittura fuori in tribuna, quelli che ho fatto giocare, quelli che sono entrati, penso a oggi Cardino ha giocato tutta la partita, ha fatto due gol, Zaman è entrato, ha segnato, oggi abbiamo chiuso con sette ragazzini in campo, direi che uno ha fatto anche gol, direi molto bene